46 anni, un tempo che sembra lunghissimo, insufficiente però a fare chiarezza, stabilire verità e soprattutto affermare la coscienza di principi e valori fondanti. Tanti ne sono trascorsi dall'assassino di Giovanni Spampinato, giovane giornalista ragusano, ucciso a 26 anni non ancora compiuti a Ragusa, dinanzi al carcere da Roberto Campria, dipendente della provincia e figlio dell'allora presidente del tribunale, Saverio Campria. Un'esecuzione premeditata, visto che l'assassino da tempo palesava sofferenze e fastidio per gli articoli di Spampinato, soprattutto in relazione al caso Tumino, un delitto di cui non sono mai stati scoperti colpevoli, avvenuto a Ragusa il 25 febbraio dello stesso anno, praticamente otto mesi prima. Di quel delitto fu indiziato Roberto Campria e Spampinato fu il solo giornalista a fare il suo dovere, mentre gli altri, tutti gli altri, preferirono non disturbare l'esuberante rampollo figlio di un potentissimo nella città. Una lunga sequenza di reticenze, condizionamenti o missioni anche negli uffici giudiziari offrirono a Campria una pretesa di impunità che ne favorì la reazione sull'unico giornalista capace di scrivere la verità. Se anche gli altri, o almeno alcuni di loro, avessero fatto il loro dovere e se dentro il Palazzo di Giustizia magistrati e operatori forensi non si fossero tutti inchinati o prestati per interesse e convenienza ad assecondare con il silenzio quella mostruosa incompatibilità in cui operava il vertice del tribunale, Giovanni Spampinato non sarebbe stato ucciso. E dopo la morte fisica ne fu per tanto tempo depredata la memoria e l'identità, liquidato dall'opinione pubblica cittadino come colui che se l'era cercata, vittima di inesperienza professionale. E sì, Giovanni Spampinato era giovane, ma fu l'unico a saper fare suo mestiere. Il problema è che tradirono gli altri, i cosiddetti giornalisti esperti.